Prosegue a Ischia il contrasto all'abusivismo, fenomeno ancora attualmente diffuso e che risultato essere un'emergenza nel 2022 quando molte aree dell'isola vennero colpite dalla frana. Quattro in tutto le ultime persone denunciate che vivono nei comuni di Furio e Barano. I militari delle stazioni locali, con la collaborazione del personale degli uffici tecnici, hanno portato a termine i sequestri. Nel primo caso a Via Casale sono state eseguite delle opere edili non a norma, come un fabbricato di 65 metri quadrati utilizzato ad abitazione, un alloggio ampliato di 20 metri quadri rispetto al progetto originario e la realizzazione di deposito di circa 68 metri quadrati. A Barano invece due persone sono state denunciate dai carabinieri per un varco carrabile e dei muri di contenimento di altezza e larghezza maggiori rispetto ai titoli abitativi, nonché delle scale e murature ed un vialetto di calcestruzzo della lunghezza di 10 metri quadrati. La rilevanza degli abusi è gravata dal fatto che proprio in quelle zone dove sono state fatte ampliamente costruzioni c'è un vincolo sismico e ambientale.